Ma che state facendo qua? Me l'avete chiesto voi di fissarvi una camera, io vi sto fissando la camera. Ho capito ma non ci capiamo mai figlio mio, io intendevo una suite, voi stai fissando questa camera qua? Grazie maresciallo, ma maresciallo scusate quanto la volete fissata? Me la dovete fissare almeno un mese, un mese. Un mese, è solo un quarto d'ora che la fisso e già mi sono rotto i coglioni. I carabinieri però non sono male, ma l'ho vista qui dentro carabinieri, c'era due, davvero? Si, ma che avete il film? Si, si mette a sedere in fondo nell'ultima fila, come mai? Perché ride bene che ride l'ultima.